Ora basta E' arrivato quel momento Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ora non fatevi delle domande perchè io ed Avi che è stata qui con me saluta Si Max cosa c'è? Ah devo salutare ragazzi Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ragazzi oggi sono qua con Max chiamerò Ok Avi Oggi siamo qui io e Buon Avi per distruggere due persone che conoscete benissimo in questo canale però esatto le due figure del passato ninja impostor Max cattivo ed io cattivo si ragazzi l'ho scoperto che è arrivato sono arrivato io cattivo e l'impostore non c'è niente da fare dobbiamo solo distruggerli esatto poi dobbiamo stare attenti adesso segno al ninja e impostor Max cattivo perchè con le sue mosse fa male un po' Max si però pure l'impostore ha il super impostore di secondo livello ricordatelo in effetti è vero Avi pure l'impostore è un po' pericoloso però con la mia quarta forma completa riuscirò a distruggerlo in caso di necessità userò la mia arma Super Max che quella è addirittura distruttiva si ma cos'è più forte la Super Max o la forma completa di quarto livello la Super Max è più muscolosa ecco lì e qua l'appuntamento la distruzione ah ah ecco ninja e impostor Max cattivo sono qua pure io comunque oggi dobbiamo distruggere questi qua dopo che distruggiamo questi qua ci uniremo con quello che ti ha chiamato la volta scossa quello la con quella voce spaventosa e poi distruggeremo la felicità con quello la e quello fa molto paura oh l'impostore si batti 5 ah esatto comunque si hai ragione si pure io ho detto che è una bella idea hm facciamolo Max hai sentito? uno con una strana voce si si Avi l'ho sentito stanno parlando del hacker ragazzi l'hacker in posizione vai Max ok in posizione vai impostore anche noi in posizione io sono ninja impostor Max cattivo ok via lo scontro oh ho dato un pugno adesso tocca a me mi 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 vado ho gli ipnotizzanti ma cos'ha quel pazzo perfetto ora mi sono svegliato bravo hai messo il tappeto l'imbostore max cattivo oh no max ti ha tirato per terra quello cattivo dell'imbostore aspetta che ci dovrebbe una petata si continua ciao ragazzi